Noi abbiamo bisogno di misure per lavorare, abbiamo bisogno di conoscere la glicemia soprattutto se il paziente è diabetico, abbiamo bisogno di conoscere il suo emocromo, abbiamo bisogno anche di conoscere quanto ha male, quanto ha dolore, soprattutto poi se cognitivamente non riesce a comunicarcelo. Dobbiamo anche conoscere e sapere quanto funziona. Per questo ci sono delle scale di misure che sono utilizzabili ma noi molto spesso abbiamo poco tempo in ambulatorio durante le visite fisiatriche per poter effettuare queste misure. Per venire in conto quindi a queste necessità la Simfer ha realizzato un'applicazione scaricabile su tutti i cellulari che permette di misurare in modo assai veloce di registrare tutta la casistica di ciascun fisiatra sul proprio computer.